Sui problemi della sanità si registra anche l'interesse del coordinamento locale del megafono. Abbiamo chiesto e ottenuto per giovedì 26 giugno un incontro, scrivono i componenti del gruppo, per discutere a Palermo la risoluzione dei nei che attanagliano il nosocomio licatese. All'incontro la nostra delegazione sarà accompagnata dal direttore sanitario dell'ospedale di Licata, Angelo Trigona, da alcuni medici e dal segretario zonale della CGL Funzione Pubblica Sanità, Mario Augusto, che da tempo attraverso il sindacato si adopera per la lotta per la salvaguardia della struttura. La nota del megafono, a firma del presidente Calogero Malfitano, continua spiegando che l'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino ha ritenuto opportuno accogliere la vibrante richiesta di far ricevere la delegazione del megafono e gli esponenti del settore dalla capo di gabinetto al fine di affrontare le tensioni scatturite dalla rimodulazione del piano sanitario regionale. Tra questa, la delicata vicenda della riduzione dei posti letto da 18 a 16 nel reparto di ortopedia dell'ospedale San Giacomo Alto Passo, nonché le gravi conseguenze che provocarebbe il declassamento della rianimazione, a maggior ragione poiché è definito polo chirurgico rispetto ad un polo medico come quello di Canigattì, cosa che farebbe scegliere all'utenza altre strutture sanitarie per ovvie motivazioni precauzionali. La CGL, Funzione Pubblica Sanità, si conclude la nota, ritiene che probabilmente la rete ospedaliera siciliana potrebbe essere revisionata, ma sulla base delle decisioni che potrebbero essere prese dal Ministero risulta necessario in ogni caso attivarsi.